Io quella mattina, non ricordo la data esatta, ma sempre del 44 e non era ancora inquadrato, eravamo sempre prima di ottobre, scendo di casa, faccio per aprire il portone di casa che abitavo in via Torino, 26, il palazzo esistente tuttora, e come apro il portone mi beccano due della brigata nera, due brigate nere mi prendono, ora i giovani, e mi portano all'ingresso della Scarba Magnano, in via Fiume c'era l'ingresso della Scarba Magnano, però ho notato nel frattempo che anche altri cittadini venivano presi e portati lì, infatti arrivati davanti all'ingresso della Scarba Magnano, ho visto una coda lunghissima che non finiva più di gente, di uomini, tutti uomini, messi in fila e un tavolino con seduto un tedesco e due o tre fascisti che chiamavano i documenti, insomma era un rastrellamento nel loro modo perché probabilmente cercavano o ebrei o appartenenti alla resistenza, insomma, chi non era in regola con i documenti, io tra l'altro quella mattina lì non ne avevo documenti, per niente, non so cosa mi sarebbe accaduto se fosse svolta in questo modo la faccenda. Fatto sta che mi mettono in fila e questa fila lunghissima arrivava quasi fino in via Alessandria, dall'ingresso della Scarba Magnano in via Fiume si andava quasi fino in via Alessandria a coppia di due, una fila lunghissima, con qualche milite che faceva avanti e indietro alla guardia che noi stassimo in fila. Io sapevo che andavo incontro dei guai perché non avevo i documenti dietro tra l'altro, poi avevo già 17 anni e eravamo non soggetti alle chiamate ma ad essere portati sui posti di lavoro, che ne sono una latta, non si sapeva mai la sorte che poteva accadere, eravamo vivere così. Allora, ma la necessità aduzia l'ingegno e la paura a far miracoli, mi è andata bene. Tra la gente che si stava a vedere, prevalentemente donne, c'era un ragazzino, che mi ricorderò sempre il suo nome, Franco, che abitava proprio sopra di me. Io chiamo sto ragazzo e dico Franco, vienimi vicino, faccio segno di avvicinarsi, le dico corri a casa mia, vai a chiamare mia mamma e le mie due sorelle. Io avevo le due sorelle più giovani di me. Falle venire giù, dille che sono nei guai, falle venire giù di corsa, lì che vengono giù subito. Difatti lui, il tuo ragazzo, avrà avuto 7-8 anni, corre di corsa. Nel frattempo io cosa facevo? Facevo passare sempre quello dietro, ritardavo il mio avvicinamento, lo facevo con una certa attenzione perché le guardie magari potevano anche correre. Le facevo passare avanti e io non arrivavo mai, ritardavo di arrivare al tavolino, ma fino a quando questo sarebbe successo non lo so. Ma nel giro di pochi minuti arrivano le mie sorelle con mia madre. Allora le faccio segno di avvicinarsi a me. Mi ricordo, questo è qualcosa di comico, le dico piano piano guardatevi, avvicinatevi il più possibile a me, chiudetemi in mezzo. Io mi stacco un po' dalla fila, chiudetemi in mezzo e parliamo, parliamo sempre. Non fermatevi di parlare, anche gesticolando. E loro mi hanno dato retta. Mi circondavano e parlavamo sempre gesticolando. Nel frattempo io rubavo piano piano, piano piano, mezzo passo, mezzo passo, guardando le sentinelle che non fossero attenti, hanno guadagnato tutta la strada, diciamo, la parte centrale della strada e sono andato nel primo portone che c'era lì. Dalla finestra del primo piano una donna che era un antifascista, bravo, una donna, ecco, questo è una donna, la posso chiamare anche per nome, Parodi, Parodi Gemma. Ha visto tutta, ha intuito tutta la faccenda, no? È venuta in conto nel portone, mi ha preso, mi ha portato nella cantina, nella cantina e mi ha detto tu stai lì, chiuso, non uscire per niente, che io quando sarà il momento ti venga a chiamare, quando sarà finito tutto. Se per caso dovesse succedere che ti senti dei rumori che vengono dentro il portone, ok, guarda, lì c'è quella grossa botte, ti butti dentro.